Io mi chiamo Cecilia, suono l'arpa, scrivo delle canzoni con l'arpa, questa è l'arpa, ciao! Non è la prima volta che sbarco nella capitale ed è sempre molto molto bello. Ho scelto l'arpa quando ero piccola, non sapevo cosa sarei andata incontro ovviamente, scrivo canzoni d'amore, ho pubblicato un disco adesso che si chiama Cupid's Catalog, quindi il catalogo di Cupido, scrivo canzoni in inglese e le accompagno con l'arpa, le scrivo con l'arpa. Retape mi fa venire in mente l'azione di infilare la bic nella tape, nella cassetta e riavvolgerla. Retape!